Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Catalina e in questo video vi farò vedere una mia giornata tipica in pista, vi lascio il mio profilo di Instagram qua di lato e niente, iniziamo col video! Buongiorno! L'appuntamento era alle 10 del mattino e sono esattamente alle 11, ottimo inizio giornata. Anch'io quando ieri sera praticamente avevo a fianco Vegan, Real, al Supercross, e ho detto no ragazzi partite voi perché io non vorrei poi mettervi in difficoltà. Alla fine avevo fatto il primo, è la whole shot. Ecco perché aveva detto alleniamoli nelle partenze, no? Cioè andiamogli in avversario degno alla fine dell'anno qua. Beh direi che partiamo molto bene qua, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Sono professionisti del settore. Guarda che ottimo lavoro ha fatto il tuo amico. Vado, è un po' solta, ottimo lavoro. Ma come vai? Oh che bello, un'altra torta di mele hai fatto? Abbiamo, abbiamo. Scusate. Ci faccio a vedere, ci faccio a vedere. Sicuramente non c'è un cambio di manubrio in corso. Può essere. Oh shit, it's so good. Chiamatemi chef. Scusate, cosa? E quindi chi è lo chef? Eh. Lì dove? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ma che buona. Mamma mia. Mmm, che profumine. Oh. Comunque non vorrei dirti mai, in mezzo video tu non hai un volto. Non ho un volto. No. Perché è stata difficoltà. Mi dimentico, guardo te, non guardo il video. Tipo adesso. Ma io devo ancora mettere i ciotto i pantaloni. No, no. Esageriamo. Siamo a fare quel tiktok. Non è messo così, no? E poi fa tutto. Ti ho tu e poi ti ho detto. Allora, adesso ci cambiamo. Oh, ci cambiamo niente. Lo fai tu il video? Sì. Vabbè, tieni. Tu mi lasci il telefono. Ti ho, ti ho, ti ho. Guarda che bello. Ah. Siamo belli, eh. Che gas. Madre. Prr, po' di gas a domani. No. No, che succede. No, che succede. No, che succede. Ma cosa è che è il primo video? No. 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 Dove è danza? No, questo è un motocross, non è danza. Avete capito? Posso, posso. A Bucanagia. A Bucanagia. A Bucanagia. Cosa desidera questo? No, quello l'ho sbagliato io. Riformuliamo la frase. Lei cosa desidera? Sì, sì, grazie. Ok. Sì, è gentile. E la prendo anche questa. Ok. Andata. Io ne voglio due, posso prenderli? E prendili, prendili. 5 euro, 5 euro, 5 euro, 7 euro, 7 euro. Scelga lei, cosa desidera? 7. 7. Posso? Posso farle 2 a 10 euro, però. Ma però è troppo. Ah, da chi vai? Da mio amico. È diventato. Momento clou, momento clou. Let's go. Che vuoi? Eh? Che vuoi? Mi passi i miei vestiti. Questo? Anche la maglia sotto. Questa è la mia. Ma cos'è? Ma cos'è? Senza stile, senza stile. Stenghi. Eh, come stai facendo con la musica? Questa è preparazione psicofillica al motocross. Cresciuto a palle tecno? Eh via, latte tecno. Non caldi, non carichi. Che bello il motocross. Hi. Ok. Famiglia. Aspetta, fai vedere il casco prima. No, no, che dopo di c***o mi fanno più girare qua dentro. Oh, zio, sulle boche è bellissimo. Io comunque ringrazio la mia famiglia, i miei sponsor, soprattutto i miei amici che hanno creduto in me. Sempre qua siamo. E poi meno questi che vedono il video dicono, fatemi il riassunto della vostra giornata in moto. E questo è mi assurdo. Proprio ci vestiamo, vediamo qua e parliamo. Allora, qui si lamenta che viene bullizzato. Io vengo bullizzato, cioè non ce n'è motivo. Non ce n'è. Non c'è motivo, scusate, sono un po' di s*****o. Come, come savi, anche lui è di s*****o. Di s*****o forever. Ti banno del giro. Riformuliamo, il mio amico è bullizzato? Sì, oggi siamo stati bullizzati. Ho ricevuto più baci oggi da uomini. Anche qua tagliamo il c***o. Riformuliamo per la quinta volta. Oggi è bullizzato il mio amico? Oggi sì ragazzi, oggi sono stato lavato. Deodorato? Sì. Sì? Però ho ricevuto un complimento. Vado bene ragazzi, si guida bene. Sì, sì, grazie mille. Vorrei ringraziare di nuovo la mia famiglia, i miei sponsor, i miei amici per credere in me. E niente. E adesso come? Come stai? Voglia di... No, com'era già? Oh, voglia di... No, no, senta. Voglia di... Come... Vai! Come stai? Completo, aspetta, vai. Sì, di s*****o. E poi c'è così. S*****o. E poi abbiamo lì un lollo. Questo popolino violetto non si può vedere. No, io la passadina con il 252, Dolce e Samuele. Bravo! E noi! E noi! Samuele Dolce. Bravo! No, devi fare così. Poi vieni sulle pedale. Ma sai che c'era un furgone in fondo? No, io partiamo molto bene qua. Vadi, vadi! Ti dirò, vi dirò. Qui abbiamo un Samue su 4 e mezzo caldo nero. Oggi c***o. No, no! Ti so, no! Eccolo! Ho le dita sulla lente, ti ho c***o! Su questo sarà un bip unico. Lollo on fire! Che gas! Oh, che bello! Quello che uuuh! Mala la 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 laa la la. Ma ti apposto? Ma tutto bene? Eeeh! C'è una pietra dentro che ce l'ho infilata nella rocca Pensa che ce l'avevo nel piede Fine giornata Tizzo su Instagram 3Z Official Samuele Dolce Official Samuele Dolce Vorresti girare Cata Catalina 246 246 Catalina per contenuti esclusivi Il resto del video lo trovate solo L'occhionino Non so fare l'occhio lì Ma tira su un sopracciglio No gli occhi Sopracciglio Non riesco Insegnali per piacere Sammy insegnali Non riesco Quindi me la regali E' tutto registrato qua Me la regali Come c'è lo scambio di maglia Dopo una partita c'è lo scambio di maglia tra piloti ufficiali Quindi tieni Grazie 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 Sono ragazzi E' difficile Quella cerniera che non cerniera Vada L'amino Michelin Samuele Un po' alla mano Una mano Ti aiuto? Tiro? Si tira No Le stringhe No entrambe Perché sono vasto Sporto Spero Ti aiuto seriamente A fare il motocross Io non lo so Io non sono bravo Come si dice Non sono capace Nelle vostre lingue strane Fra cambia sport Che moto seria Da gara Da gara Si da gara Come ti trovi con Che qua fuori fa freddo E fai un po' più veloce Samu tu oggi non devi parlare Ma non è legata Ma come fa a essere legata Chi rompa paga Furgone nuovo Mercedes Si mi prendi Carichiamo Però magari Io prima Finna Mi servirebbe Ora poi mi servirebbe Che mi passassi Quel cosa lì E solo si piega in tre Sennò si E si mette E messo Assolutamente no Si aggancia la moto Aggancia a moto Ganti moto Aggancia a moto Sono ragazzi Ma mamma Questa qui Si Si è caduta a dire Beh Cioè non parli te D'emozioni Io ti sto Io ti sto fissando Fai bene a fissarmi Non tutti hanno l'opportunità Di fissarmi E apriti più ste porte Che la stronzata Deve andare via Vabbè Siamo finiti al me Che la situazione Che il mio amico Non sa bene Con la cannuccia E se rovesciano Tutti Vabbè Situazione Sempre Ottimale 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 Siamo finiti al me Siamo finiti al me Spero che il video Ti sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti chiedo di lasciare un like Un commento Di iscriverti al mio canale E niente Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti